Ciao, ben ritornati con me. Siamo qui con il sardo, quello che ci ha appaccato nella nostra avventura di Palma di Mallorca. Stiamo andando verso Marina di Ravenna, sardo, che bel esemplare di maschio italiano isolano. Dietro di noi abbiamo il pagliaio. Ciao ragazzi, tutto bene? È ancora qui che respira, respira nonostante la settimana piena di divertimenti a Palma di Mallorca. Lì davanti c'è l'ingegnere con due ragazzi in macchina. Stiamo ascoltando della musica leggermente spinta. Salutate, salutate. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. La lingua io, modestamente. Poi lavoro nel capo ufficio Patti. Ciao ragazzi, gran serata stasera. Gran serata a Marina di Ravenna, ci siamo divertiti. Adesso speriamo alla prossima serata Marina che sia ancora, diciamo, altrettanto bella. Speriamo. Se ci arrivi Fausto, se ci arrivi. Se ci arrivo, quindi. Tieni conto che adesso non si vede niente perché siamo al buio. Non ho ancora messo il flash. Siamo qua sulla strada che conduce al porto. Sulla strada, diciamo, sulla strada spiaggiosa verso il parcheggio di Marina. Cos'è la strada spiaggiosa? Cosa vuol dire? Sì, sono più o meno le 3.20 del mattino. Giustamente. Siamo abbastanza sobri ancora, quindi diciamo che il clou della serata è ancora... Sì, sì, adesso Fausto non hai detto che avevi fame, volevi mangiare qualcosa. Quando arriviamo a Inola? Sì, dopo sì, se andiamo da qualche parte mi faccio un bel cornetto, un bel cappuccino. No, magari anche un cornetto però con soppal sale, come faceva Bernardo. Il sale, il 7 di mattina, 3 kg di sale. Invece Luca non può sapere queste cose perché ci ha pacchato andando al capo ufficio Pacchi. Comunque ragazzi, i bonnats e le sue mie che ci hanno pacchiato. Ci hanno ammolato subito, non abbiamo avuto neanche l'opportunità di farveli vedere perché purtroppo hanno deciso di andare via prima, non so, verso l'una. Noi eravamo ancora lì da un'altra parte, aspettare Fausto che prendeva il dodicesimo drink della serata. Il dodicesimo, facciamo il ventesimo dai. Sì, sì, perché dai, facciamo così perché l'invisibile valeva per 15. Comunque adesso ci dirigiamo verso la macchina e ci vediamo al prossimo vlog.